Ci sono delle novità ragazzi, il contest era gratuito, premiato, con due premi, una bottiglia di vino importante e una mia lezione di fotografia anche perché il successo di questo contest è stato tutto un aspettato, noi non pensavamo di fare 10 persone in 3 giorni Vi lascio qui sotto i dati per richiedere delle lezioni di fotografia esoterica con me per richiedere delle eventuali letture per foglio o per richiedere una mini lettura semplicemente attraverso una donazione Basta che mi mandate una foto, fate una piccola donazione al canale e io faccio questa mini lettura specifica per voi, vi mando la registrazione Ci sono delle novità ragazzi, chi segue il canale già sa di cosa si tratta perché se ne è accorto dalla copertina ma cerchiamo di fare un breve riassunto per chi magari non segue costantemente i nostri contenuti Noi facciamo un format che si chiama Tra fotografia e fotografia che viene alternato ad un altro format che si chiama Tra fotografia e cinema dove trattiamo o un film di un grande autore o un grande autore della fotografia In questo periodo stavamo trattando William Eggleston Tanto è vero che trovate nel canale l'anteprima a questo format Tra l'altro trovate anche la playlist tra fotografia e fotografia In questa anteprima trovate delle notizie molto importanti su questo fotografo Poi per dare risalto allo studio di questo fotografo abbiamo anche lanciato un contest che si è svolto sul gruppo Facebook Fotografia esoterica con le modalità che ho indicato in un video precedente Vi metto il link qui sotto Adesso il contest era gratuito, premiato, con due premi Una bottiglia di vino importante, una mia lezione di fotografia Erano due premi su un massimo 10 partecipanti Perché noi volevamo che alla fine del contest potessimo leggere le foto di tutti i partecipanti Quindi abbiamo ridotto il numero perché pensavamo innanzitutto che Eggleston è complesso E quindi andava studiato E poi di dare la possibilità alla maggior parte di quelli che partecipavano di vincere Tanto è vero che la possibilità di vincere era 1 a 5 Ma oltre a questo era un po' un confronto sull'autore Cioè il centro di tutto non era tanto chi vinceva o chi perdeva il contest ma l'autore Fatto sta che da quando abbiamo lanciato il contest in tre giorni abbiamo fatto sold out Quindi questo contest è già pieno Noi avevamo dato tempo fino al 25 marzo per postare le foto E le regole erano piuttosto semplici, adesso le ribadiamo Allora con Nicola ci siamo interrogati su che fare Visto che comunque il contest era già terminato Noi ci eravamo dati un tempo decisamente più lungo E abbiamo deciso semplicemente di replicare Stesse regole del primo contest E quindi che cosa faremo? Faremo un secondo contest di nuovo Che offrirà la possibilità a 10 persone di vincere gli stessi identici premi Che abbiamo messo per il primo contest Naturalmente la partecipazione è aperta anche a chi è già partecipato Perché non vogliamo che questi siano limitati nel tempo rispetto agli altri Anche perché il successo di questo contest è stato tutto un aspettato Noi non pensavamo di fare 10 persone in tre giorni Quindi eccoci qua con la nuova copertina E con la nuova locandina che in realtà replica esattamente le regole della prima Il contest è totalmente gratuito e premiato Si può postare le foto fino al 25 marzo 2024 e mezzanotte Per partecipare basta postare la foto sul gruppo Facebook Fotografia esoterica commentando con il tag in cerca di Eggleston E le prime 10 foto postate parteciperanno al contest Quindi verranno premiate due foto con una bottiglia di vino super tusca E una lezione di fotografia di 60 minuti Da parte mia Tutte le foto partecipanti al contest verranno lette e analizzate in un video a parte Le foto vincitrici avranno diritto a una lettura speciale Questo è quanto Adesso per chi non frequenta il gruppo Facebook È indispensabile iscriversi e postare la foto per poter in qualche modo partecipare La locandina verrà messa lunedì mattina Dal momento in cui verrà postata la locandina Sarà possibile cominciare a mettere le foto Un consiglio spassionato che vi do Siccome avete tempo per studiarvi un minimo l'autore Nicola ci siamo stati 5 mesi sopra per farvi capire quanto è complesso quest'autore Potete andarvi a rivedere l'anteprima che abbiamo fatto noi Dove spieghiamo alcuni aspetti fondamentali della sua fotografia Potete anche attraverso una donazione ricevere l'intero video Che dura un'ora e 40 Dove avete quasi tutte le informazioni necessarie Per entrare dentro in profondità di questo fotografo Oppure cercare notizie su internet L'unica cosa che vi dico Non buttate la foto lì Cercate di entrare all'interno di questo fotografo Perché è più importante l'esperienza Di cercare di comprendere Eggleston Che magari di vincere il contest Il contest per noi è un modo Per parlare di Eggleston e per coinvolgervi Questo è quanto Quindi ci vediamo lunedì per chi vuole Con il nuovo contest in cerca di Eggleston A 10 persone ancora Che avranno la possibilità di partecipare Di avere la lettura delle foto E di essere premiati A presto Grazie a tutti Grazie a tutti.